Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo puntato di Survivor Domani, la rubrica Cucina con Dommaccio. Oggi vi mostrerò una ricetta di un piatto che si può portare anche in escursione. È una ricetta che si può fare tranquillamente quando una persona prepara troppa pasta e quindi riesce a mangiarla. Io la conosco come frittatina di maccheroni, ma in Italia assume anche molte il fenomeno come frittatina di pasta e via dicendo. Oggi aggiungeremo un ingrediente, ovvero della pancetta. Prima cosa ci servirà la nostra pasta che all'interno ci abbiamo aggiornato con le noce di burro, infatti come vedete è abbastanza unta. Poi un uovo per ogni 100 grammi di pasta, del formaggio, ovviamente l'olio per friggere e la padellina, e infine i nostri ingredienti in più che la pancetta. Abbiamo provveduto a tagliare finemente. Nel formaggio noi abbiamo fatto un misto tra parmigiano reggiano e pecorino. Mi raccomando di utilizzare l'olio per friggere e non quello di oliva. Io utilizzo l'olio di semi di girasole. La ricetta è facile e sbrigativa, oltretutto non sprecherete soldi nel buttare la pasta che vi è avanzata. Iniziamo mettendo le due uova, questi qua infatti sono circa 200 grammi di pasta. Adesso mettiamo i nostri formaggio rottato e mescoliamo per la prima volta. Adesso che abbiamo ben mescolato il tutto, mettiamo la nostra pancetta. E rimescoliamo da fare in modo che la pancetta non sia solo nel niente punto. Quasi quasi, visto che abbiamo aggiunto la pancetta, la potremmo chiamare carbonara degli azzu. Allora adesso ci siamo spostati qua per friggere la nostra pasta. La fiamma deve essere vivace ma non troppo, quindi circa media. Mettiamo la nostra padellina con un filo d'olio, non troppo. Aspettiamo un attimino che si riscalde la nostra padella e l'olio all'interno. Bene, il nostro olio è pronto, adesso non resta che mettere il nostro in pruglio. Come vedete inizia subito a friggolare. L'uovo farà da legante, quindi unirà insieme la pasta. Come vedete l'abbiamo girata e vi faccio vedere come faccio io quando la devo girare. Utilizzo l'ausilio di un piatto e poi lo faccio scorrere in questo modo. Nel frattempo che anche l'alto super giù ci si cuoce, noi prendiamo un altro piatto piano, ci mettiamo dello scottex che poi asciugherà la nostra fettatina. Poi la fettatina di maccherano. E eccoci nella postazione di prima, perché secondo me questo è un piatto facile da portare in escursione, infè è facile. La prima cosa è bello compatto e poi si può anche tranquillamente tagliare la fette. Se poi subito dopo la preparazione viene messo in un contenitore adeguato che riesce a mantenere il calore, può anche essere abbastanza caldo per poi mangiarlo. Passo completo in quanto contiene sia proteine che carboidrati. Non ci resta che assaggiarlo in una prossima escursione. Buon appetito! Bene, il video finisce qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun altro video. Ricordo che se volete essere salutati dovete lasciare qui sotto un commento scrivendo per favore salutami. E un piccolo spoiler, prossimamente vedrete montare e aprire una tenda. Chissà quale sarà. Ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti!